Oltre alla misura cautelare per le due donne confermate anche i domiciliari ad altri due indagati mentre sono state parzialmente accolte le richieste di altre due uomini anch'essi indagati. Restano così in carcere madre e figlia indagate nell'ambito dell'operazione sul giro di prostituzione a Partinico nei giorni scorsi con il coinvolgimento anche di una minorenne vittima di abusi. La decisione del Tribunale del Riesame di Palermo che si è pronunciato sulla richiesta di irrevoca delle misure cautelari da parte degli avvocati difensori dei sei indagati. Le accusa a vario titolo sono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minori. Le misure sono state eseguite dai carabinieri tra le province di Palermo e Agrigento. Madre e figlia in base alle indagini militari della compagnia di Partinico si prostituivano costringendo anche la minorenne a subire abusi. Le due donne sono assistite dagli avvocati Rosangela Barretta e Salvatore Di Chiara confermate i domiciliari per gli altri due indagati difesi da Maria Polizzi e Luigi La Plaga. Altri due momni hanno avuto accolte le loro richieste. Uno, difeso all'avvocato Antonio Maltese, ha avuto revocato l'obbligo di permanenza in casa alle 20 e le 7 e quindi non ha più alcuna misura. L'altro, invece, difeso all'avvocato Cinzia Pecoraro, ha avuto revocato sempre l'obbligo di permanenza nelle ore notturne ma è stato confermato l'obbligo di dimora.